Ciao ragazzi, oggi volevo segnalarvi una nuova applicazione sia per Android che per Apple, tutta italiana, chiamata Notificash. Permette di guadagnare soldi reali, praticamente leggendo pubblicità dal proprio smartphone. In base alle preferenze che ogni utente seleziona all'inizio, Notificash invierà notizie specifiche che faranno aumentare il credito del salvatanaio. L'applicazione è stata ideata sia per chi vuole guadagnare qualcosa, sia per le aziende che vogliono avere immediata visibilità acquistando pubblicità su questa applicazione. La pubblicità mostrata è targettizzata e mirata. All'avvio dell'applicazione, infatti, vi sarà chiesto quali sono le categorie di vostro interesse, tra arte e spettacolo, auto e motori, casa e giardino, moda e abbigliamento, ristoranti e bar, sport e salute, tecnologia elettronica, tempo libero e viaggiare. Queste categorie sono modificabili in qualsiasi momento dal menu. Dovrete selezionare da un minimo di 4 o un massimo di 6. Finora non mi è dispiaciuto leggere pubblicità e promozioni a me inviate, anche perché le notifiche non sono per niente invasive. Alcuni giorni ne arriveranno 3, altri 1, altri nulla. Alla fine dei conti bastano pochi secondi per leggere una notizia, ottenendo il giusto compenso. Il pagamento consiste nella possibilità di ottenere ricariche telefoniche, Paypal, Postpay o bonifici bancari e può essere effettuato a raggiungimento di 2 euro. Se volete potete utilizzare il mio codice all'inizio dell'applicazione, che vi sarà richiesto, che è cmht, tutto scritto in lettere minuscole. Vi saluto, spero che questo video vi sia stato utile e buon lavoro con l'applicazione. Grazie a tutti.